buongiorno ragazze buongiorno a tutti e a tutti nuovo video blog barrocchicriccio come state spero bene allora altro video blog per parlarvi un po e stanno un po assieme dunque io adesso rifare il letto perché il mio letto ve l'ho messo male quindi è disordinato e voglio rifare con voi quindi mi mettono un po a posto e state con me ok e niente a dopo ciao però almeno l'ho fatto come ho potuto come ho potuto e niente dunque questo mio letto per l'appunto il cavalletto sto di qui non potete vedere c'è un calzocino in casa meraviglia che non viene bene secondo me lo stesso a dopo dunque è un momento di fare qualche video altro video ma non ho ancora idea di cosa fare di video e quindi boh credo che improvviserò mi sa che c'è giù mia zia che sta parlando bene a posto tanto per tirare a posto però vabbè che brutta questo mi devo toccare e non mi voglia e dunque 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 cosa voglio fare nulla non penso che farò video motivo e da qui in avanti mi dirigerò solo al trucco solo al make up che è meglio va e il video blog e anche video l'ho percorso così miei messo un po po com'è questo è solo quattro ma poco se ne ho messo un microfono mi hanno messo un microfono non so se si vede però c'ho il microfono qua vedete che si vede che c'è un telefono si e nulla quindi e niente vi chiederò che video ASMR che so che vi piacciono molto i video ASMR e niente che caldo che va ciao e niente ragazze io adesso vi saluto ci vediamo in un altro momento ciao ciao